Gli sfollati terramani, ospiti nelle strutture ricettive, devono lasciarle entro il 17 di febbraio, ma ci sono delle eccezioni. Sì, premetto che non è una competenza dell'ufficio speciale, ma della protezione civile. Quindi c'è in Regione Abruzzo un dipartimento dedicato, a cui capo c'è l'ingegner Silvio Liberatore. Quindi maggior elementi di dettaglio chiaramente vanno chiesti alla protezione civile. Però c'è un'ordinanza che ha adottato il capo della protezione civile nazionale, il dottor Borrelli, è stata pubblicata il 12 novembre e ha dato una tempistica per le persone assistite in albergo. Effettivamente la scadenza è quella che lei ha indicato. Le eccezioni sono per coloro che abbiano dei figli iscritti a scuola per far concludere l'anno scolastico ai figli, oppure per coloro che siano in grado di dimostrare che nel comune di provenienza, di residenza, non ci siano alloggi disponibili. Tutti gli altri dovranno fare domanda di casse e passare all'assistenza di contributo di autonoma sistemazione. Come verrà gestita la situazione? Questo le ripeto, sarà il dipartimento competente che la gestirà. Io le posso dare due numeri perché insomma con il collega mi sono sentito al 31 gennaio scorso, quindi poco più di dieci giorni fa, erano 609 le persone ospitate in albergo. C'è anche un'eccezione per coloro che sono in attesa della consegna delle case sostitutive per i sfollati ATER. Di queste 609, 107 sono sfollati dell'ATER. Non le so dare le indicazioni precise di quanti di questi 107 siano in attesa della consegna dell'abitazione sostitutiva. Gli altri, insomma, del restante numero, 436 persone ad oggi non risulta aver presentato alcuna domanda di contributo. mentre 32 nuclei familiari per complessive 65 unità di 65 persone hanno presentato la domanda effettivamente. E di queste sono state tutte istruite, 19 decreti sono stati già emessi, gli altri sono in corso di istruttoria. Questo è un aspetto della ricostruzione, da un punto di vista proprio della ricostruzione vera e propria. Qual è la situazione sul territorio Terraman? La situazione ad oggi è che sono caricate sulla piattaforma MUDE 1978 richieste di contributo. Di queste 1978, 1100 sono già avviate in istruttoria e alcune chiaramente hanno avuto una definizione istruttoria. Quelle definite sono circa 500 e restano circa 800 richieste di contributo ancora da avviare da istruttoria. Però chiaramente noi stiamo accelerando non soltanto nella prestazione mensile di ciascun istruttore ma anche in ragione del fatto che abbiamo determinato un rafforzamento dell'ufficio della pianta organica. Si sono concluse la settimana scossa le selezioni per i geometri, quindi stiamo assumendo con decorrenza 1 marzo 20 geometri. E si concluderanno il 19 di questo mese le selezioni per ulteriori 10 invece istruttori tecnici e ingegneri. Quindi dal 1 marzo avremo un contingente di 30 unità di personale in più. Grazie. Grazie. Grazie.